musica 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 perfetto, bene non siamo suoni mi sa no, stavolta no ecco c'è qualcuno che ride in sottofondo infatti già siamo partiti bene non è masoni, state tranquilli a meno per altre due settimane Carlo non lo invitiamo, abbiamo un ospite serio stavolta prego, tocca a te ospite ciao a tutti mi chiamo Sofia Righetti sono già qua che sto ridendo perché stavo pensando anche in Marduk senza face painting esatto, senza face painting chissà come sono sono simpatici sì dai sono simpatici personcini a modo sicuramente sì sì molto a modo no sì sono Sofia Righetti sono onoratissima di essere qui insieme a Ste e insieme a Dennis grazie mille per l'invito ragazzi grazie a te invece posso dire grazie mille Butei mi capite perché siamo tutti qua della Verona Rock City io sono una formatrice sono laureata in filosofia della medicina e filosofia del diritto faccio formazione su i disability studies i feminist disability studies e i critical disability studies che sono tutti i rami appunto in cui si parla del femminismo intersezionale anzi dei gruppi marginalizzati e di come porre fine alle discriminazioni sistemiche che purtroppo stanno tannagliando ancora tantissime persone della nostra società e anche io faccio podcast anche io ho tre podcast ne ho due su Patreon uno che si chiama Bad Creep Girl Podcast ossia la storpia cattiva e uno che parla di stregoneria e attivismo e l'altro che invece è pubblico che si può ascoltare ovunque che si chiama streghe dove analizzo la figura della strega da un punto di vista sociale spirituale politico e anche artistico e quindi insomma ecco questo è un pochino un brevissimissimissimissimissimo del mio riassunto è la punta dell'iceberg lo sappiamo che la punta è l'iceberg però insomma è già è già molto più di quello che noi combiniamo abitualmente insomma nel tempo libero allora adesso al pubblico credo che serve una giustificazione perché perché nel tempo libero quando non fai tutte quelle robe lì che io non ho idea di quale possa essere ma tu adesso per esempio hai una bellissima t-shirt dei Megadeth sei stata a Lupo Miroc a vedere i testament fai parte della scena sei una musicista parlaci di tutte quelle robe che ti fanno spendere soldi e non guadagnarne adesso ah perché tu guadagni quei podcast? no spiegaci come fai no 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 soltanto con Patreon ah beh quello sì con Patreon per fortuna ho la mia coven che mi sostiene ma altrimenti non guadagno niente con quelli gratuiti non guadagno proprio una minchia niente di niente purtroppo vabbè li porti su Patreon però quello sicuramente due sono su Patreon perché mi vuole sostenere sappiate che due sono su Patreon e l'altro appunto è streghe che appunto è super free super libero e io ho iniziato a ascoltare musica da piccolissima mi sono innamorata di Freddie Mercury quando avevo tre anni e mi ricordo ancora perché c'era la la mia sorella che aveva lasciato pensate un po' Lit Mania Dance del 1992 dentro la macchina di mio padre mio papà mi stava accompagnando all'asilo accende praticamente mi parte Living on my own di Freddie Mercury la versione remixata con questi bassi che partono tum 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 io mi li sentivo tipo scoppiare dentro le ossa mi sentivo probabilmente perché c'era veramente il volume della macchina di mio papà a livelli catastrofici io avevo tipo tre quattro anni che non mi hai capito insomma quei timpani che mi stavano spaccando però questa voce questa musica mi ha completamente fatta innamorare mi ha veramente fatto un incantesimo e da lì mi sono iniziata a appassionare dei Queen che ero piccolissima i miei manco sapevano chi fossero ho dovuto andare sono dovuta andare a chiedere a dei altri parenti mio zio che qualcosina qui e là di Rock sapeva pensate un po' che per la comunione mi sono fatta regalare il Gratis Tiz uno e due dei Queen con tutte le videocassette dei Queen c'è la comunione raga e da lì ha iniziato 8 anni quindi di solito torno a quell'età esatto avevo tutti i poster di Freddy eccetera eccetera e poi dai Queen sono passata al punk non chiedetemi come però praticamente ho fatto tutto un periodo fino ai 12 13 anni di solo Freddy Mercury solo Queen solo ascoltavo soltanto quello e poi verso i 13 anni mi sono innamorata del punk quindi ho iniziato a scoprire tutto il punk 77 quello che erano i Sex Pistols i Ramons e da lì ho detto cavolo però non voglio soltanto tipo ascoltare oppure non voglio essere la ragazza che va sotto il palco siccome che io ho anche un pericolosissimo Martina Riete se uno guarda il mio tema natale il Martina Riete è molto focoso e ha bisogno di stare sul palco e io perciò ho detto vaffanculo voglio prendere la chitarra e voglio suonare al che mi sono mi sono presa un insegnante di chitarra e nel momento in cui mi ha insegnato i primi power chord ho detto ok io raga sono a posto adesso posso salire sul palco e suonarmi il mio punk e da lì ho iniziato appunto a girare verso in vari gruppi della scena della Girona immagino che i dream theater non ti interessano insomma se con i power chord sei a posto eh ho avuto questo piccolo problema qua di cui mi sono mangiata veramente tantissimo le mani diventando più anziana che nella mia deficienza di adolescente che voleva subito appunto suonare una volta imparati power chord ho detto ciao raga io sono a posto si va a suonare intanto i miei compagni andavano avanti intanto iniziavano a fare altre cose più complesse i corn le cover dei di altri gruppi sicuramente più più complesse rispetto a i clash però io invece sono rimasta lì fino a che poi nel 2007 mi sono trasferita a Bologna e mi sono innamorata del glam metal col glam metal ho detto ok è meglio che un attimo inizio a rincarare la dose perché non voglio essere tipo rimanere nell'angolino a fare semplicemente i miei power chord e allora ho iniziato ad andare a lezione di chitarra da Alberto Bergonzoni che ovviamente sapete chi è che è la bestia satanata la bestia di satanata degli atruzzi che era diventato il mio maestro di chitarra e che se ascolterà questo podcast gli mando un bacio gigantesco e quindi grazie a lui infatti poi a Bologna con la music academy ho iniziato diciamo anche a fare un po' di improving improving my skills e iniziare a suonare tutto quello che era il glam metal e lo slizz metal quindi i motri crew i poison gli alleket scratch faster pussy cat the billy idol back air babies tutta questa avete presente tutta quella scena ma guarda scendi una cosa che non c'è mai stata a becker babies stavo per fare la ola quindi figurati ah grande perché poi c'è stato proprio questo ritorno dal 2007 al 2011 che c'erano esatto proprio che veniva dalla scandinavia venivano tutti da lì i gruppi ecco uno dei negro eccetera eccetera ad esempio uno dei sogni proibiti ok allora dicevo adesso tu Sofia ovviamente non puoi saperlo però noi siamo molto legati a quel tipo di scena lì anche perché il nostro matrimonio definitivo spirituale avverrà quando vedremo davanti a qualche palco lucifer e la copter tra me Stefano devi immaginarti una roba tipo JD e Turk di Scrubs non so se mi spiego nel nostro rapporto umano è la bromance metal più pura che possa esserci quindi così poco metal molto poco metal tra l'altro lo so ma se no non abbiamo invitato nemmeno lei se facevamo una roba strettamente metal stavamo qua a leggere la discografia di menu dall'inizio alla fine all'inizio comunque adesso cominciamo a parlare di cose serie tu consideri il linguaggio fondamentale e i messaggi e facciamo un esempio perché è giusto che gli spettatori sappiano e partiamo proprio da quando mi hai cinghiato nelle prime due mail che ci siamo mandati perché così la gente deve avere un esempio pratico per capire che cosa vuol dire per capire quanto è merda Righetti no per capire che c'è un punto di vista forte ed è giusto che la gente lo sappia poi chi vuole lo farà proprio ma almeno devono capirlo perché non sono robe banali allora io ti ho scritto una mail in cui ti ho invitato tu hai accettato tu hai preso la mail hai selezionato determinate frasi che ho scritto e hai commentato a tuo modo una che è molto carina ed è veramente un bel esempio con cui tutti capiscono io ovviamente abbastanza stupidamente perché ho fatto abbastanza in fretta ti conosco per le tue riflessioni sull'abilismo non per il resto ho detto la tua immagine che è quella legata all'immaginario rock e metal è anche quella della streghetta non è che se per caso ti presentassi in giacca e cravatta verresti percepita in modo diverso cioè la tua appartenenza alla scena secondo te taglia la credibilità che hai perché non e tu mi hai prima di rispondermi sicuramente guarda streghetta no strega perché a tua sorella lo dici ecco spiega perché streghetta non va bene strega va bene e qual è il messaggio che c'è sotto e dopo lo applichiamo la nostra musica preferita vai ma essenzialmente perché non si parlerebbe mai neanche ma se tu invece che avere l'immagine da metallarina avessi l'immagine di non lo so una violoncellista oppure invece della biondina metallarina oppure della sì dai della ragazzina no è sempre quel diminutivo che va a far sì che le persone che lo ricevano siano sminuite e c'è anche un tono molto paternalista nell'utilizzare questi minutivi streghetta metallarina biondina ragazzina oppure anche signorina c'è stata una scena bellissima in cui Lillie Gruber aveva proprio ripreso un giornalista che aveva chiamato non mi ricordo il cognome della della professionista della giornalista aveva chiamata signorina e Lillie Gruber fa sì e lei è un signorino cioè eh sì sì è un modo per delegittimare in qualche maniera insomma in maniera con il linguaggio con i sottotesti io sono esatto per far capire proprio per fargli rendere conto quanto è deleterio anche utilizzare appunto il linguaggio che sia così delegittimante dell'autorità della persona che sia che sia davanti e questo purtroppo esatto lo si utilizza anche proprio a livello inconsapevole perché è una cosa sociale sistemica lo si utilizza molto spesso nei confronti delle donne o anche molto spesso nei confronti delle persone a cui o delle anche delle professioni a cui non si dà tanta credibilità per esempio a me molto spesso per esempio mi viene data della biondina quando non mi si vuole dare credibilità la biondina ma non nel mondo del lavoro cioè no no sono negli articoli di giornale o negli articoli della biondina la biondina disabile molto spesso mi viene detto questo però invece che chiamarmi la dottoressa righetti la biondina disabile sì poi è molto bello è stato l'esempio anche che mi hai fatto quando abbiamo un discusso schettino veniva chiamato sempre per cognome la racchette sui giornali veniva chiamata carola perfetto allora il linguaggio le parole fanno cose il linguaggio crea una percezione del mondo allora adesso giriamola per quello che ci interessa di più in questo caso a te piace Glam Metal il Glam Metal negli anni 80 era conosciuto come una musica che usava il sessismo cioè l'immagine della bionda anni 80 un 80 e che stava allora il chitarrista in piedi e la donna aggrappata al ginocchio in posizione semiscosciata è mille copertine Metal e Glam tu che sei così consapevole di questo tipo di messaggi a te comunque piace quindi vuol dire che hai fatto una riflessione e sei andato un po' in là perché altrimenti non ascolteresti queste cose qua prova a spiegarci perché allora innanzitutto il mio sogno se il mio sogno quando ho iniziato a suonare Glam sarebbe stato avere l'inverso ossia io con la mia chitarra e poi sotto degli uomini adoranti sotto di me i poison cioè i più belli della scena possibilmente i motri cru 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 io sarei su i mitisix e tommi io sarei proprio lì io sarei sui moraccioni ok ok io vorrei i propri adoranti che mi adoravano a parte che io avrei voluto fare proprio un change del genere infatti era stato anche molto bello perché comunque nella scena io ho suonato a Bologna nella scena che avevamo lì comunque diciamo che il sessismo non c'era perché era più che altro una sorta di sex positivity che c'era ossia di positività sessuale nel senso che non c'erano soltanto ok d'accordo io ero una tra le pochissime donne che suonavano in quel momento lì è vero però dall'altra parte c'erano anche le altre mie amiche che non suonavano così come anche tanti altri miei amici che non suonavano che comunque avevano loro l'autodeterminazione sui loro corpi sui loro comportamenti di fare quello che volevano con i musicisti con altre persone quindi proprio c'era anche questo discorso di autodeterminazione della sessualità libera quindi io non mi sentirei mai nemmeno di condannare o fare un discorso paternalista alle gruppi che facevano le foto comunque andavano a scopare facevano sesso con dei vari gruppi maschili che c'erano ai tempi anche perché ricordi un'altra cosa che a me piace tantissimo per esempio è che quando avevo 18 anni io ho iniziato a suonare Riot e nei gruppi Riot erano tutte donne e tutte avevano i gruppi cioè se parliamo anche non so dell'L7 delle Bikini Kill avevano i gruppi e le gruppi ci avevano e questa è una cosa bellissima ma immagino che anche le Vixen ci avessero i gruppi nel senso che purtroppo era le donne erano in minoranza quando suonavano ma sono sicura che avevano tantissimi gruppi e soprattutto poi anche nelle canzoni appunto quelle Riot degli anni 90 c'erano lì le canzoni dei gruppi femminili di Riot che parlavano tantissimo per esempio di sesso I don't need your dick to fuck I don't need no kiss goodbye eccetera eccetera erano di una potenza incredibile oppure c'era anche l'altra delle delle Seven Years Beach che era The Scratch che era di una potenza bellissima perché appunto diceva I want it give it to me I love it cioè io lo voglio me lo prendo o altra canzone che mi piaceva e che adoro tantissimo che suonavo erano quelle delle The Donnas Take It Off cioè le The Donnas parlavano proprio cioè togliti i vestiti togliti i pantaloni che ti voglio scopare oppure Forty Boys in 49 Night cioè che parlavano proprio che ogni volta che andavano in giro per fare un tour si scopavano un ragazzo diverso ogni volta quindi la cosa normale che invece è bellissima è un messaggio è diventato cioè può diventare un messaggio politico perché non siamo abituati né avere tanta presenza femminile nel rock dei musicisti dei cantanti eccetera quando poi in realtà cantavano gli stessi testi dei Poison di Sì esatto sì sì esatto 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 quindi forse per me perché c'è stata un po' una forse c'erano poche donne ai tempi ma se ce ne fossero che suonavano ma se ce ne fossero state di più secondo me avremmo avuto più come si dice più bilanciamento nella situazione a me la cosa che piaceva molto era proprio il discorso della libertà sessuale che c'era anche un po' del gender fluid che anche se come abbiamo parlato anche con Dennis ai tempi i maschietti non lo ammettevano però c'era molto gender fluid perché se guardiamo appunto come si acconciavano i motley crew i skid row sembravano mi sembra che ci fosse una vecchia dichiarazione che era dress like a woman play like a man and make love like a motherfucker cioè era la giustificazione che i poesi si davano io mi vesto da donna ma sono comunque un uomo e sessualmente faccio quello che mi pare contro i trash e il meta più estremo che appellava a quel sottogenere di musica lì Emma siete tutti e compagnia bella quindi la percezione c'era già da chi stava dentro adesso secondo me c'è una percezione anche da chi stava fuori lo vedi cioè rileggere c'è un teore di film anni 80 adesso è quasi imbarazzante vedere la partita del bici volley di Top Gun la rivista con gli occhi del 2022 da dei messaggi diversi da quelli che probabilmente no ma bastano le foto cioè nel senso vedi le foto dei warrant vedi le foto di tutti loro cioè dici ok soprattutto ricontestualizzata che la moda anni 80 è passata la ricontestualizzi oggi dici eh ma voi non fate rock cioè voi probabilmente siete gli abba cioè nel senso siete più una cosa molto più molto più scansonata invece no insomma l'immagine era figlia di quei tempi sì poi anche l'altra cosa con cui parlavamo insieme prima di fare il podcast era anche di Rob Alford che è stato proprio lui tra l'altro introdurre le borchie e quindi l'abbigliamento quello più strong fatto di borchie di pelle che poi deriva dalla dalla comunità LGBT degli anni 80 anche dalla comunità dei famosi LGBT e quindi in realtà ci sono tante persone tanti metallari che magari o c'erano tanti metallari che pensavano di essere omofobi che in realtà non sapevano che i loro vestiti derivavano proprio dalla comunità è un bel triggerone questo cioè nel senso se uno ci pensa ma quasi nessuno lo poteva solo immaginare penso anche perché erano tempi non è che ci volesse tanto perché voglio dire io vedevo la scena del bug gay in tutti in scuola di polizia c'era la scena del bug gay dove mandavano il sergente antipatico ed erano esattamente vestiti come Judas Priest degli stessi anni perché i film di scuola di polizia sono da sascuna parte della mia notte io mi chiedo come nessuno dicesse no ma guarda che non è la stessa roba eh sì invece cioè il look è lo stesso perché mi pare che un'intervista l'ha detto alla fine nei primi periodi dei primi concerti andavamo anche in determinati locali per farci nome e quindi il look è derivato anche da quello insomma che dice niente di male sì e volete che ve ne dico anche un'altra rimandando a una vostra puntata che a me è piaciuta tantissimo che era su Stranger Things la puntata recente su Eddie Malson e per esempio ho letto vari articoli in cui parlando proprio della sessualità di Eddie hanno fatto vedere dei topic tipici della comunità gay non LGBT proprio gay degli anni 80 che per esempio si vedono degli indizi che per esempio Eddie ha la bandana nera infilata dentro la tasca dei pantaloni e quello era proprio un indizio tipico nella comunità gay tra gli uomini gay per indicarsi tra di loro per riconoscersi tra di loro negli anni 80 e dire sia appunto ciò che ciò che gli piaceva fare ciò che gli piaceva e si riconoscevano per esempio la bandana nera è indice indicava proprio le persone a cui piace il sadomaso il BDSM e nella camera di Eddie vediamo anche delle manette e quindi qua viene da pensare ok il look l'hanno ripreso perché le manette la bandana nera è super metallara o hanno voluto mettere dentro degli altri indizi è stato consapevole o no oppure è stato un mix perché comunque anche i metallari nell'86 anche inconsapevolmente avevano ripreso come ha fatto appunto Ru Balford che poi le ha rilanciate determinate determinati modi di essere di vestire determinati abbigliamenti d ecco diciamo così questa è una cosa anche molto interessante si chiamava flagging il fatto di mettersi la bandana l'avevo letto qualche volta e le bandane di diverso colore o in determinate posizioni in una tasca invece che l'altra davano single in cerca di o cose del genere una roba mi ricordo io ricordo comunque ascolta c'è un'etichetta che a me non piace per niente non mi è mai piaciuta istintivamente ma io parlo a livello semplicemente di musicofilo abbastanza preso duro quando si parla di female fronted metal a me non è un genere cioè non è un genere female fronted metal la cantante i ginger e la cantante i nightish non hanno niente in comune sono semplicemente due cantanti di due gruppi che fanno due generi completamente diversi adesso c'è sta roba che è il female fronted metal a me è un'etichetta che proprio non dice niente è insipida che ci dici? per me il problema è sempre quello della scarsità nel senso che purtroppo c'è ancora tantissima scarsità di donne che suonano o cantano all'interno del metal e quindi hanno cercato appunto di raggrupparle per anche se fanno generi completamente diversi e di raggrupparle anche se come dici tu non hanno niente a che fare l'una con l'altra perché non è che magari si parla di un movimento che era come quello riot delle riot girl esatto in cui c'era uno stesso messaggio uno stesso tipo di musica c'erano le fanzine c'era proprio qualcosa di identitario dentro quel movimento sì perciò secondo me il problema è sempre riguardante la scarsità delle delle donne che suonano secondo me se magari ci spero spero con tutto il cuore quando ce ne saranno di più verranno anche tolti questi termini perché non avranno nemmeno più senso no ma pensiamo anche è il modo anche in cui viene usato questo termine cioè female front end metal che voleva dire poi anche penso io mi ricordo le copertine in cui raggruppavano Cristina Scabia la cantante di Nightwish quella degli arcenemi e facevano la copertina ai vari metal hammer rock hard si è dimenticato il quarto angolo del quadrato The Gathering a neche vedi già lei era mezza tirata fuori per conto suo perché comunque aveva anche un modo di porsi un modo di pubblicizzare il suo essere front girl che era diverso dalle altre magari e venivano raggruppate perché per parlare del tema e quindi venivano anche raggruppate tu pensa se dovessero fare una cosa chiaramente è una questione di numeri come diceva appunto Sofi non sono così cioè si sta muovendo qualcosa anche la consapevolezza che insomma parlare usare certi termini non è più opportuno non ha neanche più senso anche perché la gente non gli interessa più niente spero però effettivamente sulla questione numeri è rilevante e non siamo ancora neanche lontanamente vicini anche perché sì no ti do pienamente ragione inoltre penso anche adesso mettendomi a ragionare con voi magari anche quando fanno appunto gli articoli oppure non so le dizioni di giornali o degli album appositi penso anche che sia una questione di marketing perché comunque diciamolo la figatira nel metal ce n'è poca quindi se ti fai uccidire soltanto donne ma diciamolo anche anche questione di marketing l'utenza anche del metallaro medio ne abbiamo già parlato più volte è maschile etero maschile e tendenzialmente adesso non voglio ma ne abbiamo già parlato tendenzialmente si ascolti metal la rappresentazione che sta in Stranger Things non è completamente insomma è campata per aria qualche problemino di socialità un po' di introsprezione in più è più facile trovarla in un metallaro che in uno che ascolta musica a discoteca insomma quindi si si assolutamente si la donna o la fica come hai detto tu è molta più presa basta guardare il fatto anche per una questione di marketing che ci sono moltissimi gruppi che hanno una donna in line up nella photo session che poi va sul cd lei è truccatissima bellissima meravigliosa dopodiché vai su la vedere dal vivo è un'altra persona a un certo punto non so neanche quanto sia più sia proprio intanto onesto e dopo quanto lei si sia sentita a suo agio perché per fare la foto del cd dovrà sembrare chissà che dopo invece le vedi al vivo sono persone normali e sono molto più in contesto della band perché stanno in fianco a quattro puzzoni di cui uno di solito c'ha un occhio che guarda un'altra parte perché le foto metal anche dei cd e gli uomini sono imbarazzanti ci sono delle foto tuttora di gruppi in cui tu dici ma almeno potevi pettinarti siamo onesti invece lei è sempre stellare e qua ci rimandiamo a Sebastian Bach il schidro che almeno loro si pettinavano esattamente ed era bellissimo anche se non si pettinava non aveva tanto bisogno insomma lui lui ma la scandinavia la scandinavia tutta avrebbe bisogno di spettinarsi quando fanno metal si ma adesso no no ma è vero è vero è vero poi c'è anche sai anche un'altra cosa che ho notato purtroppo c'è anche un altro pregiudizio ossia io quando avevo il gruppo appunto Riot che eravamo tutte ragazze mi ricordo una volta che abbiamo vinto un contest di musica non ammetto non perché fossimo chissà che brave perché c'era anche un gruppo cover delle Zeppelin e noi facevamo appunto Riot quindi punk punk anni 90 però avevamo veramente spaccato il culo cioè loro erano tipo con la scopa super per il retto che faceva tipo sapete con il basso attaccato qua faceva le cancioncine così noi abbiamo fatto il macello abbiamo saltato sui tavoli eravamo truccate come le Misfits di Gemme Leolo holograms e quindi ovviamente la gente si era incendiata si è divertita un pelo di più che ascoltare come le Zeppelin che belli esatto esatto anche se suenevamo abbastanza di merda però comunque avevamo vinto perché avevamo fatto una scena della madonna e mi ricordo che gli altri gruppi si erano incazzati come delle bestie perché dicevano che avevamo vinto solo perché eravano donne e che quindi ci avevano trattato con favoritismo ma in realtà non era assolutamente vero era iniziata la discriminazione al contrario quella del eh ma ci discriminate in quanto uomini eteros che poi adesso va tantissimo di moda si 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 noi siamo uomini quindi invece loro sono donne e quindi le hanno fatte vincere perché sono donne invece non era così era perché appunto eravamo molto più divertenti ed era stato più figo vederci proprio oggettivamente ci racconti la questione dei kiss dell'arena perché quella è da raccontare tu in questo momento sei abbastanza inbibbierita su quella questione lì e secondo me ne hai ben ragione perché soprattutto anche perché insomma non stiamo parlando dell'ultimo pub di Cisinello Balsamo ma stiamo parlando dell'ente arena vai oh yes come avete capito non sono esattamente una persona che è calma tranquilla e si fa mettere i piedi in testa come avete capito anche perché di festival ne ho passati un pochini cioè nel senso che lo so Dennis che si è appena passato che si è appena tornato da una valanga di festival però devo ammettere che anche io mi sono fatta i miei quindi sono andata allo Sweden Rock Festival al Metal Camp quando c'era ancora nel 2007 tutti i vari italiani c'è che siamo mezzo incrociati senza saperlo forse nel 2007 vado a controllare qual è era quello dove c'erano gli Immortal sì gli Immortal di Motored grandi grandissimi grandissimi e allora niente sono io i Kiss in Arena li avevo già visti nel 2008 ed era andato tutto bene perché chi di voi è già stato in arena sa che ci sono le gradinate e poi c'è il plateatico dove ci sono le poltrone quelle rosse dove la gente si siede ed è come al cinema che guarda lo spettacolo io infatti nel 2008 c'ero già andata avevo visto i Kiss erano rimasti tutti seduti perché il problema cos'è? è che per le persone in carrozzina ci sono delle postazioni che ti danno e tu devi rimanere fermo lì e le postazioni sono messe indietro vicino alle sedie queste qua rosse che vi dicevo tre anni fa nel 2019 sono andata a vedere The Vanishance a me non è che me ne importava tanto perché non è proprio uno dei miei gruppi perdonami sono più female fronted metal eccolo lo stai dicendo solo perché canta una donna dai la coda di paglia dai esatto esatto io sono un po' più dai fronte destruction l'abbiamo capito in arena destruction non credo che facciano tanta gente te lo dico anche ho qualche dubbietto però comunque era qua attaccato a casa mia ho detto vabbè dai andiamo a vederli e quando siamo andati lì a vederli cosa è successo che quando sono saliti i Vanishance a suonare la gente si è alzata in piedi e io non ho più visto niente e non soltanto io ma anche tutte le persone in carrozzina che c'erano lì perché la gente si alza in piedi l'unica cosa che vedi sono le spalle se ti va bene il culo se ti va male cioè dipende da quanto sei alta anche te sulla sedia e allora ho iniziato ovviamente a tirar fuori la vichingaggine che è in me andare dai bodyguard e a dire che se non sistemavano la situazione li avrei denunciati con la legge 67 2006 per discriminazione nei confronti degli spettatori e spettatrici disabili i bodyguard si sono un po' cagati addosso perché non pensavano che ci fosse una persona che saltava fuori così anche perché ricordati che al di là del contesto specifico tu sei una persona che in Italia sa citare una legge e ultimamente non è che proprio ha una competenza trasversale no infatti potevi fare come lo sketch di Aldo Giovanni e Giacomo la capitale della Birmania potevi dire una legge è un numero a caso e comunque sarebbero cagati sotto uguali perché non credo sapessero messi così esattamente nell'immagine i bodyguard oh no ha citato proprio quella legge la legge 101 del reparto 4 porca miseria ci ha fregato va beh ecco dai mi fate morire allora prima praticamente si sono cagati sotto e mi hanno fatto andare davanti e soltanto che davanti ho detto ok raga ci sono altre 30 persone in carrozzina lì cioè non va bene così non è che a me va tutto bene e gli altri no cioè dovete andare a prendere anche gli altri e allora sono andati a prendere anche le altre persone nel frattempo gli evanescen sono andati avanti a suonare alla fine abbiamo visto 20 minuti del concerto cioè non abbiamo visto nulla e in più l'altra parte delle persone perché ci sono delle postazioni a destra e a sinistra io ero a destra quelli a sinistra non li hanno nemmeno spostati cioè non li hanno neanche detto di andare avanti nada e allora il giorno dopo io ho scritto ho organizzato vivo concerti il concerto degli evanescen sono scritto per avere rimborso del biglietto mi hanno chiamato chiamandomi tra l'altro Sofia dandomi del tu che questa è una cosa a proposito di paternalismo super trigger che è meglio non fare i correnti se non la si conosce perché già mi parte già e dicendo praticamente no ma Sofia Sofia perché tu non hai niente di cui devi non sei stata discriminata e noi non possiamo farci niente non devi sentirti discriminata e quindi noi non ti rimborsiamo niente ho detto perfetto ci sentiamo tramite i miei avvocati ho riattaccato il fatto è che l'avvocato in quel momento non ce l'avevo cosa ho fatto allora mi sono rivolta all'associazione Luca Coscioni a cui avevo dato una mano per un'altra sentenza una denuncia contro Flixbus sempre per discriminazione perché non facevano salire le persone disabili sui Flixbus allora ho chiamato l'avvocato Gerardi che tra l'altro siamo diventati pure molto amici oltre che soci in queste battaglie che non dovrebbero esserci ma dobbiamo continuare a combatterle e allora ero incarognitissima e Gerardi mi fa Sofia non preoccuparti adesso ci penso io qualunque altra persona ti vuole chiamare adesso tu mandagli a me e quindi lì è stata la mia fortuna perché ho avuto veramente un avvocato con e ho tuttora un avvocato con molto 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 bravo che lui ha già fatto appunto anche altre varie altre udienze altre denunce anche con nel comune di Roma ne ha fatte tante grazie sempre all'associazione Luca Coscioni e abbiamo prima fatto due diffide Arena non ha risposto neanche la fondazione Arena non ha risposto niente di niente e hanno risposto con delle cose estremamente ridicole tra cui una l'avevano scritto anche sul giornale c'era Mazzi che è il capo di fondazione Arena che aveva detto manderemo la croce verde se hanno bisogno sì la croce verde a fare cosa esattamente a giocare a poker cioè mentre ci sono i concerti cioè dobbiamo cioè qua il problema non è la croce verde il problema è che se sei in carrozzina prendete i soldi dei biglietti degli spettatori e delle spettatrici e non li fate vedere perché la gente si alza è quello il problema ma lì è customer satisfaction quindi o li fate seduti sì sì ma o li fate lì è customer satisfaction pur è semplice sì sì ma è anche intelligenza nel senso che non puoi fare una cosa del genere cioè come se tu andate voi andate a pagare un concerto 70 euro e non vedete niente cioè dite ma mi state prendendo per il culo e da lì poi quando appunto è venuta fuori questa se sono andata sui giornali che appunto è iniziata quando non hanno risposto alla diffida l'abbiamo trasformata in denuncia e quando appunto è uscita fuori ben grossa la cosa in realtà abbiamo scoperto che è da dieci anni che Arena fa questo trattamento nei confronti delle persone disabili e che tantissimi avevano denunciato la cosa non pubblicamente ma mandando tantissime mail tonnellate di mail dicendo che non vedevano niente tra cui appunto una che è venuta a fare una persona che è venuta anche a fare testimone durante il mio processo che è Barbara Longo che ha un mazzo di fogli di mail che ha mandato a cui Arena non ha mai risposto tutte le volte che è andata a vedere concerti magari anche un pochino più tranquilli però che non ha mai visto nulla e e quindi adesso sta andando tra l'altro oltre a me c'è anche un'altra donna in carrozzina che è Valentina Tomirotti che ha fatto denuncia anche lei perché dopo un mese è andata a vedere Coez mi pare che non so chi sia comunque un altro un altro cantante uguale non ha visto niente la sua sentenza è stata respinta perché il magistrato il giudice perché lei era col tribunale di Mantova le ha detto non sei stata discriminata perché anche se non potevi vedere potevi sentire cioè vi immaginate una cosa del genere non sei discriminato perché se vai in concerto e non vedi niente è come se ti metti una benda sugli occhi mi prendo i tuoi soldi e non vedi niente però siccome che potevi sentire questa roba qua mi interessa molto secondo te così per non saperne leggere né scrivere quel giudice lì ha risposto così per ignoranza e quindi perché gli manca un contesto vero o perché ci sono degli interessi spesso così a pelle perché è una cazzata enorme uno che ha una laurea in giurisprudenza uno che ha una laurea in giurisprudenza queste robe qua non dobbiamo neanche pensarle cioè però è secondo te la mancanza di contesto e quindi una realtà che comunque non viene vissuta nel modo giusto o secondo te c'è puzza di qualcosa allora siccome che siamo in podcast e sono ancora dentro la causa mi appello alla facoltà di non rispondere rispondo quando la finiamo è come se avessi risposto così però mi appello al quinto emendamento americano e alla facoltà di non rispondere italiana la butto per l'assurdo la butto per l'assurdo perché mi è venuto in mente un possibile ragionamento stupido che può aver fatto una persona non fuddissima eh ma allora le persone basse scusami le persone basse che non riescono a vedere i concerti perché eh sì infatti anche tu Dennis non sei esattamente una donna e non riescono a vedere i concerti poi vabbè mi sono autorisposto che a parte la scemenza del ragionamento a parte che chiaramente uno con le sue gambe poi può cercare migliori vie per arrivare a cosa però magari può esserci questo concetto limitato vabbè hai già risposto che non ti vuoi sbilanciare ma insomma questo è un altro punto di ragionamento sì ma per rispondere a questo il problema è che per le persone disabili ti danno già la postazione tu da lì non ti puoi muovere perché a prescindere se nei concerti purtroppo quelli molto grossi il posto numerato diciamo esatto è un'odissea pensate che per uscire ad andare a un concerto per le persone disabili c'è lo 0,5% dei posti disponibili le persone disabili al mondo sono il 20% della popolazione questo vuol dire che lo dico io quello che devo fare io quando esce un concerto che possono essere di sleep knot o comunque qualcosa organizzato non so di abbastanza grosso che magari capito non sono i destruction per dire ma qualcosa di più grosso dove so che ci va tanta tanta gente io devo essere pronta la mattina quando aprono i biglietti io non posso comprare il biglietto devo mandare la mia documentazione medica in cui si attesta il grado di disabilità che ho e pregare tutti gli dei del pantheon orreno che non ci siano altre persone disabili perché praticamente diventa proprio una gara tra i poveri diventa una gara perché alla fine chi manda per primo il proprio certificato e chi ha il grado di disabilità più alta ha più probabilità di entrare e i posti si esauriscono in un attimo basta pensare che in arena ci sono 30 posti ma in che senso si esauriscono scusami cioè nel senso ma tu non hai comunque preso il biglietto mesi prima per un evento del genere non posso non posso prenderlo non me lo danno a me il biglietto se sei disabile non puoi devi mandare la tua documentazione medica e loro dopo due tre settimane ti dicono se ti hanno accettato o meno ma dai questo non sapevo assolutamente nulla non avete idea di cosa darei per poter comprare il biglietto come fate voi veramente non avete idea di quello che darei per poter pagare il biglietto come fate voi senza ogni volta dover pregare tutti appunto gli dei norreni egiziani chiunque altro dell'universo e non dover tutte le volte mandare la mia documentazione medica sperando e pregando che mi accettino per entrare nel 2022 mandare la documentazione medica ovviamente è ridicolo perché insomma penso abbiamo la tecnologia per fare queste cose un po' più agilmente dovremmo averla tra l'altro tra l'altro e poi i posti sono veramente ridotti perché sono è lo 0,5% dei posti è come non si dicessero soltanto lo 0,5% dei biondi può entrare cioè è tremenda come cosa è tremenda sei anche bionda quindi vedete sei proprio autodiscriminata da sola e poi è un cane il concetto di un cane che si morde la cosa cioè meno posti allora ci sono le difficoltà quindi anche un disabile avendo tutta la voglia del mondo il più delle volte gli passa cioè nel senso semplicemente di dire ma chi me lo fa fare per andare a un concerto che forse non vedo c'è la diatrice devo dare le carte eccetera eccetera e quindi sempre meno posti vengono dati perché sempre meno disabili vanno ai concerti e quindi e poi ed è il ciclo infinito questo qua esatto tra l'altro quello che hai appena nominato adesso vi faccio un po' di formare anche se avevo detto con Dennis no non voglio parlare di queste cose e invece me ne parlo lo stesso quello che hai appena nominato si chiama Eden Labur cioè che è il lavoro il labor in inglese può essere inteso come lavoro ma anche proprio travaglio quindi quel lavoro iper faticoso che una persona fa hidden nascosto quindi tutto il lavoro nascosto che una persona disabile deve fare per fare le azioni più basiche e banali come appunto andare a un concerto che se non ti fanno vedere devi andare avanti tramite avvocati come andare a quando vuoi andare al cinema che devi prima vedere se la sala sia accessibile o meno come quando vai in vacanza che devi prima garantirti fare mille chiamate per vedere se il posto dove vai ha le pedane non ha la pedana l'albergo è accessibile le stanze come sono messe ci sono non ci sono tutto quel quel lavoro immenso che veramente ti fa passare la voglia di vivere senza ti fa passare la voglia di andare da qualsiasi parte purtroppo perché è un lavoro grosso e poi che questo diventa la fonte del minority stress che è lo stress che sentono e subiscono le minoranze quando fanno parte appunto di una minoranza oppressa perché subiscono maggiore oppressione e stress rispetto invece che non una persona che a livello normativo è ben inquadrata e che quindi tutta la società è predisposta per il suo agire ad accoglierla e fargli fare le cose esatto per la sua esistenza esatto per accoglierla e per farla muovere nello spazio e farla accedere ai diversi servizi che sia il concerto che sia il ristorante che sia le vacanze che sia andare all'università lavorare qualsiasi cosa prendere i mezzi pubblici per esempio e il fatto dei concerti sta veramente adesso diventando un grosso grosso problema perché anche qua io ho notato la differenza perché quando ho iniziato ad andare io ai concerti c'erano poche persone disabili che ci andavano per esempio mi ricordo che al metal camp io ero l'unica quell'anno forse eravamo massimo in due ma ero l'unica e io in carrozzina almeno e io presento proprio comodissima mi sa arrivare fino là bella ma arrivare però erano organizzatissimi erano stra organizzati io mi sono comprata i miei biglietti come gli altri miei amici non ho dovuto mandare un cazzo mi sono prese i miei biglietti mi sono presentata lì avevo la tenda mi portava mi hanno portato poi lì alle tende che loro avevano tipo il quad una specie di quad esatto la tenda nella parte della tenda VIP che era quella più comoda dove potevi andare e praticamente lì era super easy e dopo quando suonavano i gruppi mi mettevano mi chiamavano e mi mettevano davanti dove ci sono i fotografi quindi era super super facile ma anche i primi Gods of Metal era estremamente facile dopo per fortuna ovviamente che è una fortuna sempre più persone disabili sono andate e vanno a vedere i concerti e allora lì il problema cosa diventa che la gente e gli organizzatori invece che dire ok ci sono sempre più persone che disabili che vengono facciamo qualcosa per farle sentire al loro comfort anche perché sono soldi in più che arrivano se ci sono anche persone disabili in più che arrivano cioè siamo clienti paganti invece che che dire così hanno detto no 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 dobbiamo fermare la cosa perché la sicurezza non va bene questo non va bene la sicurezza non va bene e quindi hanno iniziato a mettere sempre più regole però per me anche il discorso della sicurezza io ve lo dico qua è una cagata immensa perché se hai visto anche quello che è successo proprio una settimana fa che c'è una una persona che su Instagram si chiama Veneto Accessibility che ha denunciato Manuel Bortuzzo che è il ragazzo in carrozzina che ha fatto anche il grande fratello perché lui è andato a vedere ultimo e lui era davanti mentre tutte le altre persone in carrozzina erano indietro nella postazione io lo chiamo il ghetto dei disabili perché è questa pedana rialzata che ti spesso dietro il mixer in cui non vedi niente che sei lontano dai tuoi amici da tutti e ti mettono lì e quindi tutte le altre persone disabili erano lì però Manuel Bortuzzo era davanti davanti certo e quindi questa sicurezza molto spesso non regge vabbè però lì direi che è una delle vecchie leggi del mondo insomma disabile ricco schiaccia disabile povero come ricco schiaccia povero lì è un grande è una grande normalità è vero è una grande cosa di civiltà diciamocelo sì sì il VIP il VIP se non altro è una legge molto generalista ascolta hai detto una parola importante hai parlato di ghetto adesso voglio che tu sia spietata il più possibile tu mi hai detto una frase molto bella nel fatto che tu hai trovato casa nella comunità rock e metal eccetera eccetera però quanto la comunità rock e metal alla fine è un ghetto perché c'è un vecchio modo di pensare su cui io francamente sono abbastanza d'accordo è che le sottoculture sono casa ma spesso diventano anche una gabbia in cui spesso si sguazza e ovviamente la prospettiva tua è diversa però quanto secondo te il metal è una gabbia oltre che una casa confortevole ma non per te per tutti perché noi ragioniamo tanto sugli stereotipi del metal sui limiti autoimposti del metal con leggerezza vai allora guarda è molto molto interessante la riflessione che hai fatto e anche la domanda che mi hai posto e poi voglio anche sentire la vostra opinione da quello che ho visto io in realtà tutte le varie community dove quindi ci sono persone che sono associate e magari anche marginalizzate per certi motivi della società che appunto che sia la comunità metal la comunità queer la comunità disabile la comunità per esempio anche quella vegan antispecista la comunità bipoc razzializzata e quindi ho visto che questo esatto questa 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 dopo la tagliamo questa battutaccia tremenda va prego ok perché non l'ho neanche io ho detto esatto ma non l'ho sentita esatto che mi ha fatto capire che non ho la comunità dei fan di un gruppo vecchio tedesco vabbè no di chi di chi no ditemelo noi facciamo umorismo abbiamo le nostre due o tre vittime regolari runny white sono quelle bo vai vai lascia che bellissimo ma perché erano quelli che si vestivano da pirati già negli anni 80 ed è un segno di comunità marginalizzata insomma prima lo andavano vestiti da pirati ma anche la comunità di quelli che ascoltavano gli orphan punks i faster pussycat e tutto quello però si divertivano sicuramente di più sicuramente si divertivano di più dei fan di running wild che insomma più di tanto di cui sono super proud e ne faccio parte anche tra un altro non dei running wild però dell'altro no 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 ma guarda no è un problema in realtà che ho visto che è molto comune ed è molto discusso in tutte le comunità in generale perché è vero diventa casa perché sicuramente trovi altre persone con cui ti confronti e infatti molto spesso adesso viene utilizzato il termine bolla la bolla per esempio io sapete che lavoro su instagram e si parla molto spesso di bolla femminista perché all'interno della bolla femminista siamo tutte persone che condividono un determinato tipo di linguaggio di riflessione però appena che magari io esco da instagram esco da quella bolla di persone vado fuori qua al bar in Valpolicella a bere sbram capito vengo subito a salita da non so espressioni omofobe slang che non vorrei sentire per esempio o anche discorsi abilisti che mi fanno raccapricciare e così per esempio è così anche per le persone queer che appena che escono dalla bolla o comunque dalla community queer iniziano a essere discriminate ma possiamo dire che anche così per la comunità metal perché quando ci si ritrova tra metalheads metallari ci si riconosce subito poi magari vai fuori e se fai un lavoro oppure cerchi lavoro per il tuo aspetto fisico rischi che non ti prendono neanche a lavorare perché magari adesso ok i tatuaggi sono sdoganati d'accordo però mi ricordo per esempio a proposito della domanda no scusa Dennis che mi avevi fatto del ma il tuo look da strega metal invece che magari da violoncellista eccetera era uno delle grandi preoccupazioni di mia mamma di mia madre che diceva guarda che con tutti quei tatuaggi il lavoro non te lo trovi da nessuna parte per esempio o anche con tutti quei piercing e quando avevo ancora 17 anni avevano iniziato a mia mamma a farmi tutti questi discorsi guarda che se vai in giro così non ti prende nessuno a lavorare e tu l'hai presa come una sfida ovviamente e va bene ah sì ma io proprio sei come un matto allora ho detto bene me ne farò un altro hai visto la luce hai visto la luce quella è la via deve essere me ne farò un altro e secondo me una delle soluzioni per esempio potrebbe essere e qua lo so che magari voi mi direte Sophie sei molto idealista però io credo tantissimo nell'intersezionalità ossia credo tantissimo nel poter intersezionare anche le varie bolle che ci sono e vedere i vari punti in comune che ci sono con i vari i vari ghetti o case e in questo modo anche tra persone ghetti marginalizzate o comunque che fanno parte di una minoranza che sia musicale che sia di espressione di genere che sia per una determinata conformità fisica però ci si può unire in questo modo qua e per me è qui che nasce veramente la magia della comunanza quando appunto invece che chiudersi ci si apre alle varie altre marginalità e alle altre varie persone che sono state marginalizzate si vedono tutti i punti in comune che si hanno io per esempio me ne sono accorta vedendo io come persona disabile che ho che sono una una persona cis quindi cisgender mi riconosco nel mio genere che mi è stato assegnato la nascita e essendo che sono disabile ho tantissimi punti in comune con le persone trans nonostante io sia cis per esempio il fatto che sia che le persone trans che le persone disabili sono state medicalizzate e c'è anche una sorta di feticismo nei confronti delle persone disabili e delle persone trans ho trovato tantissimi punti in comune così ho trovato anche anche se io sono una persona magra ho trovato tantissimi punti in comune con le persone grasse non è un caso infatti esistono anche i fat studies che si sono intersecati con i disability studies perché per esempio anche nei confronti delle persone grasse c'è sempre questa sorta di pietà anche di pietismo riguardante l'apparenza fisica ah grande che nonostante non lo so sei grassa vai in giro con i pantaloni corti non ti vergogni così come a me mi dicono grande che nonostante la carrozzina vai in giro e non ti vergogni che sono tutte frasi agghiaccianti ma che poi ti accorgi che vengono dette a sempre persone che non rientrano dentro quegli standard estremamente castranti stabiliti dalla società normativa grande te che sei metallaro oppure anche punk che vai in giro con gli spike e non ti vergogni alla tua età va in giro ancora così cioè ovviamente se fai parte cioè nel senso che alcune frasi possono essere più pesanti perché ovviamente quando si parla di microaggressioni abiliste quindi quelle frasi che fanno molto leva sul pietismo appunto come dicevo ah grande che nonostante la tua disabilità quindi vuol dire che io ti ritengo una tragedia vivente e ritengo che la tua vita sia tragica anche se non ti conosco potresti essere piena di soldi scopare come un mandrillo potresti capito proprio essere la la dea la regina la queen of everything però io vedo la carrozzina e quindi intrinsecamente il mio cervello inizia a flippare e penso già che tu sia una tragedia vivente e quindi qui arrivano le proprio quelle che si chiamano le microaggressioni abiliste che poi in realtà sono aggressioni ma che sono tutte quelle forme verbali quelle frasi verbali che vengono dette che offendono la dignità della persona la proprio ve ne racconto una che fa morire da ridere allora questo è stato il classicone 2008 dovevo suonare al sottotetto di Bologna sono stato sono stato esatto stavo facendo il soundcheck avevo appena finito il soundcheck ero fuori con la birretta avevo la mia birra arriva il mio chitarrista e mi fa Sophie vado a prendermi il chiodo mi tieni la birra ho detto sì sì quindi ero lì che avevo le mie due birre davanti così no certo arriva il giornalista di una webzine di allora e mi guarda e mi fa complimenti eh perché nonostante le tue condizioni hai il coraggio di salire sul palco io che guardo le birre ho detto testuali parole cioè sì sì così testuali che coraggio nonostante le tue condizioni hai il coraggio di salire sul palco io mi guardo le birre lo guardo e gli ho detto ma che cazzo dici che non sono ancora sbronza cioè beh ma cazzo se eri sbronza era peggio però o no no ma non c'ero panco arrivata io proprio nella mia capito non c'ero neanche arrivata che potesse intendere qualcos'altro poi vado lì vado dal mio cantante che era il boiler e gli dico boiler ma c'è sto tizio che pensava che fossi sbronza ma ho la faccia la sbronza mi fa ma perché cos'è che ti ha detto gli ho detto allora gli ho scoppiato a ridere e mi fa Sofì l'hai seppellito senza neanche soprenlo perché lui intendeva per la caruzzina l'hai seppellito senza neanche sapere e infatti proprio se ne è dato alle gambe nessuno poi l'ha più visto questo qua che ha capito la figura di merda che aveva fatto però sì queste sono alcune delle frasi che praticamente ti senti rivolgere e pensava anche di fare dire adesso dico una bella frase cioè nel senso motivazionale lui pensava di essere motivazionale probabilmente cioè nel senso ah sì che è quella la cosa no quella che è terribile per quello lo dicono non perché è soggettivamente difficile che una persona che voglia dirti una cattiveria te la dica in faccia o la dica a delle persone ma perché pensano che siano è come la questione del catcalling quando tipo ah belle tette bella figa ma dai ma sei un complimento perché ti arrabbi no cazzo non sono complimenti è ancora una sfumatura diversa secondo me però sì più o meno il senso è quello perché poi ti vengono a dire ma ti volevo fare un complimento no stai umiliando la mia dignità stai umiliando la mia dignità come donna e stai umiliando la mia dignità come persona perché tu in questo momento hai ti prendi possesso del mio corpo e quindi ti prendi possesso di dire cose su di me che sono denigranti e umilianti e ti stai prendendo il permesso tra l'altro stai anche oltrepassando i limiti inventandoti cose di cui tu non sai un beato cazzo e mi stai offendendo quindi assolutamente nel senso che non sono complimenti però il fatto che poi glielo dici ed è stra difficile poi in quel momento lì che la persona capisca quindi io io lo so che qua poi avrò un sacco di haters che mi odieranno perché mi è già successo però io quello che dico è fight fire with fire cioè nel senso a un certo punto se trovi il tizio che ti viene a offendere in questo modo qua e non hai voglia ma perché non è un tuo dovere dover a tutte le persone che ti offendono fargli lo spiegone spiegargli perché è offensivo perché magari a volte sei fuori con le tue amiche e i tuoi amici e non hai neanche voglia qualcuno ti tira uno ceffone anche a livello proprio morale ok perché ti fa comunque ti fa male una frase del genere e la ritira indietro tipo c'era stato uno degli ultimi che lì era stato fotonico bellissimo era stato un Celtic Fest qua a Verona che appunto mi aveva detto no perché nonostante le tue difficoltà comunque sei qua fuori a bere gli ho detto vecchio ma guarda che se volevi rimediare una scopata hai completamente sbagliato approccio sì gli ho detto guarda se vuoi un consiglio la prossima volta che trovi una bella figa in carrozzina non andare a dire una roba del genere perché tu a me non piace prescindere ma vecchio no intanto eravamo tutti i miei amici sono scoppiati a ridere lui tipo si è dilaniato in quel momento lì si è affossato tipo non so voleva sparire nel nulla e se n'è andato via perché è chiaro ma rimandere lì pareva brutto allora dobbiamo saltare un po' di con di là se non viene fuori una roba meravigliosa ma da quattro ore non ci ascolta nessuno allora due cose mi rimangono in canna una visto che hai parlato di atteggiamento verso le donne e allora disse un tizio che conobi tanto tempo fa che il tra la differenza tra rocker il punk il metal rocker vede una che gli piace si avvicina e tenta di portarsela a letto il punk è ubriaco quindi non ha problemi a gestirsi il metallaro si avvicina la guarda da dietro se la memorizza torna a casa si chiude in camera sua e si tocca allora parliamo di e tutto sommato non la sapevo questa saggezza popolare penso sempre davvero ma stai sforzando non l'ho mai sentita adesso l'hai sentita te la puoi giocare te la puoi giocare quando fai formazione ad alto livello insomma mi sto sventolando è bellissima raga allora buttandola un po' più seriamente esiste soprattutto nel death metal tutta una sorta di rape culture che anch'io non ho mai risolto io faccio un insegnante d'accordo a scuola non ci vado con la maglia dei cannibal però i cannibal li conosco e li ho visti mille volte dal vivo ed è un gruppo che a me piace molto però tanto per citarne una su The Bleeding c'è la famosa striped raped and strangled e c'è tutto un sottogenere di gruppi death brutal metal che hanno la violenza sul corpo femminile eccetera che fa parte dell'estetica ad aggiungere questa cosa qua c'è il fatto che ormai i cannibal crops sono signori di mezza età sdoganati e la foto di Fisher con le figlie ormai gira dovunque allora noi abbiamo già parlato di questa cosa qua io stesso non ho risposte perché a me quella roba li piace e quando la gente mi fa notare ma non ascolti solo Judas Priest ascolti anche quella roba di sì ma è una questione estetica però di solito la mollo lì che tipo di messaggio può dare il metal e quanto effettivamente è estetica quanto è accettabile quanto no perché ci sono gruppi che fanno dischi solo su quella roba lì che io ho tra l'altro a casa perché sono un collezionista quindi boh dici la tua guarda faccio fatica anch'io perché come avevamo parlato per esempio anch'io ho delle questioni risolte perché per esempio uno dei miei gruppi preferiti in assoluto sapete sono i Type O Negative sì benvenuta benvenuta con noi oh meraviglioso Type O Negative Peter Still aveva il gruppo i Carnivore che hanno fatto delle canzoni estremamente misogene e violente estremamente io ho la maglietta anche di Carnivore e faccio però in realtà poi se parlavi con Peter Still cioè nel senso era l'ultimo dei misogini addirittura nel disco dei Type si era un patatore ma anche nel disco che ha fatto October Rust sono tutti proprio sono canzoni che sono tutte romantiche e dedicate all'amore che lui aveva per la sua fidanzata per le sue fidanzate per le donne per le ex sono di uno romanticismo che fanno accapponare la pelle a me mi viene da 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 piangere spero un giorno non so di incontrare anche un Peter Still che mi scriva delle cose del genere e questo si è il fatto che fosse due metri pieno di muscoli e parecchio bello non aiuta vero immagino ma anche le mani che avessi foto per Playgirl non aiutano no non aiuta no non aiuta è romanticismo va bene è romanticismo proceda Righetti proceda facciamo gli insegnanti allora faccio fatica anche a risolverla quella che io penso è che una persona ovviamente può scegliere anche di discernere le due cose cioè di ascoltare perché anche poi secondo me anche qua tra l'altro è anche sempre un po' la differenza che c'è tra l'arte e l'artista oppure anche il messaggio che si vuole comunicare con poi l'artista anche in sé qua forse siamo anche perché di solito c'è la discussione scindere l'artista dall'arte questa cosa qua va al di là cioè al di là del fatto che nel metal ci sono persone orrende che suonano che hanno avuto successo ma qua parliamo forse più di quello che rappresentano quello di cui parlano perché appunto nessuno mette in dubbio fino a prova contraria ma incrociamo le dita che i cannibal corpse siano degli stupratori però fanno canzoni che trattano i temi della violenza a 360 gradi e quindi aveva 25 anni scrive una canzone sullo stupro e per loro era ci stava così come si parla dei serial killer ma non perché si vuole essere dei serial killer ma perché è un argomento che nel metal in quel tipo di estetica violenta perversa eccetera che il metal tenta di raccontare ci sta quindi forse è un livello ancora prima ecco è un livello precedente forse non sempre che sì che secondo me lo potremmo vedere sotto esatto diversi livelli perché uno potrebbe per esempio anche essere questo perché per esempio abbiamo detto Peter Steele un patatone è l'artista e la sua arte che faceva prima era incredibilmente violenta ed è un modo anche lui in cui si esprimeva anche la stessa rabbia che aveva d'altra parte sappiamo anche che ci sono canzoni e tantissimi gruppi metal che hanno fatto canzoni molto 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 violente e non a caso gli Slayer stessi erano stati vi ricordate denunciati perché beh certo che ve lo ricordate sono stati denunciati perché si pensava che avessero estigato la morte di quella ragazza negli anni 90 quella ragazza americana opera dei due tre ragazzini sì anche Judas Priest negli anni 80 ha subito il primo processo per quella roba di Prentizio che si era suicidato fu quello più famoso all'epoca c'era Tipperigor la moglie di Agor che faceva il famoso PRMC che ce l'aveva molto continuo continuo sì però ecco secondo me forse adesso potrebbe anche essere arrivato il momento che magari Cannibal Corpse e anche gli altri gruppi la smoglino un attimo con questa estetica sempre di avere la donna appunto della rap culture della donna magari sarebbe anche il momento un attimo di superarla perché un attimo dai l'hanno fatto l'hanno strafatto bisognerebbe magari chiedere anche a loro il motivo del perché cioè che sia stata una cosa psicologica di sfogo perché volevano in qualche modo dimostrare qualcosa magari sarebbe veramente l'ora di abbandonarla e magari che ne so io adesso la butto anche qua ma vi dico salta fuori tutta la mia cattiveria righettiana anzi no ghettariana visto che sono pure mezza cimbra magari non so se saltassero fuori pure delle donne che invece facesse un gruppo di donne che facessero delle magliette con degli uomini violentati e massacrati per esempio ecco cioè noi stai parlando forse al tipo d'utenza sbagliata perché noi diremmo tanto interessante non sei mai visto quindi comunque non sei mai visto perché l'unica a me almeno la canzone che mi viene in mente è dell'L7 che hanno fatto dead man don't rape l'uomo morto non stupra che però ha un significato anche sociale molto grosso perché era stata fatta anche dopo lo stupro e la morte della cantante dei Gives mi pare che si chiamassero comunque di Zapata di Zapata che comunque questo è un significato ha un significato sociale forte politico anche esatto bravo esatto politico l'uomo morto non stupra però se invece la mettiamo invece da un gruppo in modo più leggero diciamo esatto brutal di sole donne che mettono un uomo stuprato e squartato eccetera alla Cannibal Corpse per dire di come reagiremo questa è un'ottima una domanda interessante secondo me adesso con penso io ma parlo più per quello che è il mio pensiero con una sincera curiosità in più mentre magari succedeva negli anni 90 era una cosa che creava magari più polemiche forse no non lo so o forse no forse qualcuno direbbe ecco cioè non si può più dire niente noi non possiamo più dire niente ma loro sì non lo so perché il mondo è sarebbe particolare sarebbe particolare perché poi vedere soltanto appunto le donne stuprate eccetera a me qua mi viene sempre in mente ovviamente l'oggettificazione femminile il fatto anche del ruolo passivo femminile eccetera mettiamo invece il ruolo attivo femminile come hanno fatto anche le Betty Blow Torch che loro hanno fatto queste le canzoni appunto in cui lei c'è questa canzone bellissima che poi ve la passo che ha fatto anche la cover Timmy Down dei Faster Pussycat in cui appunto lei parla che sta violentando un tipo con un dildo e quindi lei ha il ruolo attivo e fa it makes me hot when you're screaming no mi fa rappare quando tu urli no e queste sono le Betty Blow Torch esatto potresti cambiare il sesso e funzionerebbe pure esatto volutamente penso però queste non le conosce nessuno queste non le conosce nessuno ma noi ci abbiamo noi adesso noi infatti noi oltre alla puntata mettiamo sempre anche una playlist qualcosa ti faccio fare una playlist libera in cui se metti tutta sta roba qua guarda io sono solo che contento io direi che possiamo quasi chiudere abbiamo due tre domande veloci tipo le iene quelle robe lì allora musica fisica musica digitale e fisica ok sei ancora una tipa da cd vinile benissimo ok e cassette le ultime cassette che ho presi sono state quelle di Twin Temple che quando sono andata a vedere i ghost c'erano di spalle Twin Temple li ho persi perché sono arrivata in ritardo però ho preso le cassette ascoltate anche Twin Temple che sono meravigliosi fanno satanic rock sono meravigliosi i gruppi vecchi sono ancora seri o un buon mo basta con questi gruppi vecchi che non c'è gruppo che non c'è cambio generazionale che ne so Metallica Iron Media Megadeth Judas Priest serissimi serissimi io voglio solo quelli io ho appena fatto la foto con Chuck Billy no no allora no anche i gruppi ovviamente di adesso è assolutamente stima totale però io sapete che ho un problema con gli anni 80 anche col trash oltre che col glam anche col trash anni 80 quindi no 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 io purtroppo sono un'affezionata dei miei vecchiotti il metal ancora molto da dire o grosso modo è giusto che sia così che tutto sia codificato e diventiamo come il rock and roll anni 60 che si fanno i parti in cui ci si veste così la musica è quella lì ed è giusto che sia così oppure credi che ci sia evoluzione che bisogna andare avanti che ci siano generi nuovi credo nell'evoluzione anche se sono a supporto ovviamente dei miei testament destruction exodus eccetera però credo tantissimo nell'evoluzione e la stiamo continuando a vedere la stiamo continuando a vedere come a volte e tra l'altro non soltanto che si evolve ma anche come tornano i cicli come c'era appunto sunset strip negli anni nell'86 poi sono tornati prima mi erano venuti in mente anche i crash diet per esempio nel 2007 2008 2009 tutta l'ondata del glam scandinavo che era ritornata di nuovo si era evoluta ma comunque era tornata lino centrosi tutti i gruppi squassa che io andavo a vedere ovviamente squassa è colpa di Elvise Squisizzi che è un mio amico che lui porta le bende che c'era anche il Comunia Fest per esempio perché era lì a dare una mano con il chitarrista dei Decapitated no no ma lui non c'entrava niente soltanto i Decapitated l'hanno chiamato faremo un'altra puntata solo su questa cosa si ha detto vieni a darci una mano perché non sappiamo cosa fare è andato via a fare il mediatore è un termine che ha inventato cioè ha inventato non so se è padovano o veneziano i gruppi squasse praticamente i gruppi merda però ha inventato tu non sei sicura che sia codificato nel direttore no credo che Squassa sia il letame della Bucca credo la Squassa la Boassa la Boassa la Boassa però loro la chiamano Squassa vabbè vado a controllare prova a controllare magari mi sono confuso però qua facciamo cultura cioè adesso mi ha fatto una puntata tre cani no 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 tre cani noi trasmettiamo trasmettiamo in tutta Italia se la smettiamo di fare una roba autoreferenziale da Veneti magari perché c'è gente dalla Sardegna magari ci stanno vedendo le balle allora ragazzi vi ho parlato di allora Squasse abilismo minority stress idel pura l'ordine di importanza è quello praticamente quello che hai detto prima vengono le Squasse tra l'altro la Squassa è dal veneziano sostanzialmente ma se tu cerchi Squassa viene fuori tre cani che ti dice milizia spazzatura rifiuto e viene città cioè italiano è quasi italiano è un mezzo neologismo è nella categoria neologismi del 2018 della tre cani ok grande però sì credo anche tantissimo nell'evoluzione nelle nuove leve che comunque portino tutto il loro perché alla fine dai noi saremo sempre i boomer di qualcuno chiamavamo boomer i nostri genitori qualcuno sicuramente chiamerà boomer noi e ci saremo sempre un po' i boomer quindi credo in tutto credo comunque nell'evoluzione musicale e metal ci credo tantissimo tenendo strette comunque le nostre radici sapendo da dove arriviamo nella cultura perfetto ultima cultura tu che sei esperta di comunicazione o comunque capisci bene i meccanismi il metal comunica in modo giusto o no perché c'è la vecchia storia no ma vabbè ma noi saremo bravi ma è musica per pochi è inutile non piacciamo che è un po' quella gabbia dorata che io ho cercato di tirarti fuori prima in cui spesso il metallaro si rinchiude non fa cose per tutti vorrebbe fare cose per tutti e un po' si strugge perché non è una roba da grande pubblico ma per forza se fai un concept album sul death metal della prehistoria oppure se parli di violenze carnali è ovvio che non puoi andare a come si chiama adesso festival bar mille battiti quella roba lì che fanno in tv secondo te il metal comunica giusto ed è giusto che sia così oppure dovremmo giocarcela meglio come complesso io per esempio ti dico la mia il metal va bene così non sarà mai per tutti e chi vuole portarlo verso tutti a un certo punto deve fermarsi perché a un certo punto non piace fine tocca a te sono assolutamente d'accordo con te il metal deve rimanere così perché se non fosse così non mi sarei neanche immersa dentro il metal perché secondo me il metal è anche il modo di comunicare che ha e deriva da una certa sfumatura umana perché alla fine qua parliamo di linguaggio umano di comunicazione che derivano dall'essere umano e anche da un determinato modo di essere e quindi rispecchia il modo di essere di tantissime persone e che l'hanno creato l'hanno modificato l'hanno ricreato l'hanno ricercato in cui tantissime persone si identificano io stessa mi identifico mi identifico nel modo di comunicare metal e per esempio non mi identifico in quello che mi hai detto io non li conosco neanche i festival che ci sono adesso wind festival quindi insomma televisivi eccetera c'è quella roba di con la Gregorazzi di aggregatori finti che fanno in arena esatto sì che c'è la Gregorazzi che la doppiano in diretta sì sì per esempio lì non mi ci rivedo proprio per niente e quindi per me il metal è giusto e deve essere così perché in questo modo può far proprio da casa a tantissime persone quella casa appunto in cui ti senti rispecchiato in cui ti senti a tuo agio che poi quando vedi magari anche altre persone che hanno la maglietta dei Sodom la maglietta dei Faster Pussycat la maglietta io sono appena tornata dal Trentino e c'era un ragazzo che aveva la maglietta degli Innocentrosi a proposito dei gruppi scoasse della Scandinavia io l'ho fermato e ho detto oh vecchio grande e poi abbiamo scoperto che siamo stati allo Sudero era uno degli Innocentrosi probabilmente perché non c'è altro motivo non c'è altro motivo insomma e quindi no deve essere così perché per esempio secondo me è proprio un adattamento congiunto sia del linguaggio che anche dell'essenza della persona che utilizza quel linguaggio se io non fossi per esempio già così di mio che utilizzo un modo di essere molto aggressivo molto strong non mi ci rivedrei in questo tipo di musica e probabilmente se non ci fosse il metal me lo andrei a cercare me lo andrei a creare quindi e tantissime altre persone se lo andrebbero a creare questo tipo di musica questo modo di comunicare che è essenzialmente forte e io lo considero anche a proposito di fare congiungimenti quelle di varie intersezionalità lo considero anche estremamente proud estremamente pride anche il modo di essere metal perché è premettetemi un altro inglesismo anapologetic cioè tu come musica metal come metallaro non devi chiedere scusa a nessuno non chiedi permesso tu sei così e basta io per esempio mi ricordo che per me anche quando sono proprio entrata ho iniziato ah no entrata sono diventata anche poi metallara definiamo come cazzo vogliamo in quel momento per me è stata proprio una liberazione perché non dovevo più adattarmi ai fighetti cagoni che c'erano quando ero al liceo potevo mettermi vestirmi come volevo parlare come volevo ruttare potevo bere tutto quello che volevo che non dovevo fare per forza quella che si adattava perché altrimenti non era abbastanza femminile potevo esprimermi in tutto quello che era la mia essenza e così come lo sono anche adesso infatti prima se posso un attimo ritornare a ciò che dicevi prima Dennis la primissima domanda e non lo so a dire la verità se avrei più credibilità se per esempio fossi in giacca cravatta o comunque in camicetta rosa vabbè che a me rosa piace anche il rosa e nero infatti la mia carrozzina è rosa e nera fucsia e nera e come violoncellista perché secondo me in quel momento lì mancherei parte della mia identità e anche della mia essenza cioè non sarei più vera in quel momento lì e credo che sempre a livello comunicativo la gente se ne accorge quando non sei più vera e quindi quello che io mi sono accorta è che se davanti hanno le persone vedono che c'è una persona cioè hanno una persona che comunica in un modo che è veritiero che è trasparente che quello che è è questo non ti nascondo nulla alla fine ti credono si fidano di te e oltre a fare comunque riesci proprio a creare quella quella empatia tra gli esseri umani la crei comunque anche se magari all'inizio non lo so possono essere mio dio tutti quei tatuaggi però comunque la crei piuttosto che invece crearti un personaggio addosso che non rispecchia quello che è la tua essenza e quindi secondo me alla fine funziona funziona perché è reale cioè quello che sono è quello che la gente vede anche quando per esempio sono andata al festival dei giornalisti a parlare di abilismo con il deputato Alessandro Zan che io ero quella che aveva ero in calze a rete e anfibi fino al ginocchio però la gente comunque mi ascoltava quello che dicevo e la credibilità comunque ce l'ho avuta nonostante tra virgolette tutti i tatuaggi il mio look eccetera eccetera perché poi secondo me la vera identità che trasmetti che la gente poi la recepisce quella è molto molto importante piuttosto di capito della finizione che poi per me è anche quella la cosa bella per cui Eddie Manson ha avuto questa grandissima exploit questa tutti lo amano proprio perché il metallaro di Eddie Manson nerd e anche poi come Joseph Queen è stato bravissimo nell'interpretarlo è reale è vero è veritiero è puro e tante persone sono riuscite anche a identificarsi in lui perché non è finto e quindi è riuscito a creare anche perché abbastanza fico diciamolo che un po' aiuta beh sì è anche decisamente gnocco quello sì però per esempio anche Steve a me non piace però anche Steve non è un brutto ragazzo anche l'altro attore con quei baffetti però cazzo quello che è riuscito a fare il personaggio di Eddie Manson che tra l'altro deriva da Damien Ackles dei West Memphis non non l'hanno creato gli altri proprio tutto questo type che c'è che c'è stato attorno no 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 certo certo io hanno fatto le fans hanno fatto di tutto attorno a lui la gente adesso si è ricoperta di suoi stessi tatuaggi sì sì e quasi che essere diventato metallare è praticamente una moda infatti sapete che sono usciti tutti quegli articoli in cui dicevano sì sì adesso dite tanto Eddie Eddie tipo in realtà eravamo quelli che voi bullivate esatto bullizzavate prendevate per il culo perché noi eravamo i nerd che ci ascoltevamo la musica di Satana esatto beh direi che la chiusa ce l'abbiamo insomma non dobbiamo fare altro si vede che Sofia fa comunicazione no no io sarei qua altre tre ore quando mi sono divertita tantissimo già abbiamo fatto il record perché mi sono stata proprio bene ci sono un sacco di cose che non abbiamo ancora detto senza impegno io direi che prima dell'inverno potremmo anche trovarci perché è un po' che noi vogliamo fare una puntata analizzando diversi approcci di donne nel metal da Lee Aron alle Riot Girls alle cantanti tipo l'Ucraina delle Ginger a che ne so quelle che piacciono a te lì quelle che fanno roba vanguard che dovevano venire anche a Coen Chelsea Wall Femma del Trello all'avanguardia del nuovo post rock sì grazie allora magari ti mandiamo te la vado ad ascoltare prima e potremo fare un'altra puntata insieme a parlare di figure femminili e come si pongono e come compongono e compagnia bella se ti farà piacere e poi parliamo anche un po' di Peter Thiel va bene dai ok così siamo a poco amerei tantissimo tutto vi giuro ragazzi con voi sono stata benissimo guardate vedete il sorriso che c'ho da qua noi lo vediamo immagino si senta ma anche noi sorridiamo forte quindi no veramente raga sono stata da Dio da Dio da Dio grazie grazie va bene allora noi salutiamo tutti e alla prossima questa è un po' la puntata bonus preestiva adesso poi un mesetto per davvero ci fermiamo e poi torneremo più forti e grazie ancora Sofia davvero grazie di cuore Dennis grazie a tutti e tutti e tutte gli ascoltatori e io veramente spero di rivedervi presto e di risentirci presto perché non vedo l'ora di tornare a si stava meglio quando si stava a metal oh che bello perfetto ciao a tutti ciao 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 Grazie a tutti.